Ciao ragazzi, bentornati su Hyrule Warriors, come sempre il museo dedicato all'universo di The Legend of Zelda. Ok, siamo sempre a un scenario che fa parte dell'epilogo, siamo di nuovo alla Valle delle Maghe. E questo capitolo si chiama Luce contro Oscurità. Possiamo utilizzare diversi personaggi, però l'unico consigliato è Link. Ah no, anche Zelda, Spadino, perché hanno l'elemento efficace entrambi i personaggi. Vediamo quanto danno faccio con Zelda. Sì, ho tanto. No, no, mi prendo Link, scusami Zelda. Però costume. Metto stile Ocarina of Time. Ok, poi Spada Suprema e via. La squadra è stata salva di rischio di altre strade. La magia di Sia è un'attura forte. Ma la sua capacità può essere usata solo da qualcuno che comprende il bonde di amore. La army di Hyrule era riempito in itsi'rla, ma Sia' forces ancora controllano la sua casa. La only way to save Hyrule Was to defeat Sia The Hyrulean army Headed to the Valley of Seers To force a decisive battle But Sia did not sit idle Despite her overwhelming advantage She found new ways To fortify her troops Using her own life force The cost to herself was irrelevant So long as she crushed her enemies The final battle Between the Armies of Light And darkness Was about to unfold Perfetto 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 Musica Inizia battaglia La mappa era abbastanza grande Non so se ve la ricordate Poi già abbiamo Abbiamo giocato in questo scenario Inizia battaglia Ok Siamo già saliti del livello. Abbiamo già fatto 100 pappate. Verso il santuario dell'area per recuperare la forza santa. Non si rompesta nel presidio nel Forte Phuket. Ci dicono la distruzione. No. Almeno. Oh, brava Gerda. Devo arrivare? Vabbè, intanto vado dritto di qua e poi scendo. Ce n'è uno vicino anche qua. Allora andiamo. Allora andiamo. Dirigiosi verso il santuario più vicino. Ci sto andando, fai. Eccolo qua. Ok, lo stiamo per frustare. Accidenti, stiamo a cerchiare. Capo a passo. Eccoti. Ok. Ovviamente. Ok. E sono in due qua sono. E non ce la fanno conquistare. Perdona. Si stanno fermi. Poi che capisci? Ok. Dinolfos. Perfetto. Abbiamo conquistato il presidio. Perfetto. Abbiamo conquistato il presidio. Perfetto. Non. Se non è possibile. Perfetto. E' un'altra. Cosa? Oh, che... ...me passata ma anche? Ottimo! Misione completate! Ok, che... ...me passata ma anche? Che... S Extension... ...man anio che, ma... ! Vici... ный! Que... No... Sì! No, Lana, figurati. Ok, andiamo. Dobbiamo andare dalla fata. Ok, Zelda, vengo con te. Sì, vengono mostro, te nemmeno. Ah, ma il cerchio è in giù. Oh, mamma mia, che scema. E qua? No, 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 arrivo, arrivo. Ok. Troppa paura. Oh, no, no, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no. 276k o? Non da male! Intanto ti intercetto. Ah, non posso? Eccolo là Eccolo C'è vrai Sì 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 Eh sì Capirai me la dignità Ma vieni te invece di mandare gli altri, stronzona E muore E muore Sì 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 Ok, mission complete! Ce l'ho fatta proprio per un pelo, visto che tutti se lo stavano dando a gambe! Ah! 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 Ah Sì! 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 Oh! Oh... Ah! E' era per fuori daanny, ed è vero. Ahahahahahahahah... Haahahahahahahahahahha Oh, ho! Ho, 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 ho! Ok. Spero che non sia finita qui perché davvero... Ci rimangono in merda Sì ci sarà il prossimo capitolo sicuramente contro Ganondorf Lo spero Più che altro Ok questi sono tutti i materiali che abbiamo ottenuto Con cui possiamo creare i vari potenziamenti Ora poi impersonare Ganondorf Ho paura di andare avanti Perché non penso che quello sia stato il finale Spero ovviamente di no Vediamo Ho ottenuto spada del re demone Ho ottenuto spada di legno 8 bit Colpendo più nemici con l'attacco forte All'arma spigiona il potere della luce Tiene premuto Y e poi rilascio per effettuare un attacco rotante Vediamo vediamo Ah devo scartare l'arma Ma beh ho tanto 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 Scarto Questa Ok Conferma Ok vediamo Vediamo un po' Cosa accade No Non abbiamo finito qua Continua Meglio così Ok Allora ragazzi Per il momento Un saluto Ci Personaggi giocabili Ganondorf No vabbè lo vediamo nel prossimo episodio Dai Ok Un saluto grande in grande Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao